Seduta conclusiva in Consiglio Comunale per discutere lo schema di bilancio del 2009. Dopo aver ascoltato venerdiscorso le relazioni di tutti gli assessori e l'intervento del Sindaco, ieri ha preso la parola Luigi Murenu, membro del Collegio dei Revisori. Il bilancio comunale è un tema delicato e di grande interesse, ma quando il Presidente del Consiglio, Antonello Muroni, ha aperto la discussione generale, nessuno ha preso la parola, stessa cosa per le dichiarazioni di voto. Solo quando si è incominciata la votazione sono entrati in aula alcuni esponenti delle posizioni, ma ormai i giochi erano fatti. Con 15 voti a favore, 4 contrari e 3 assenuti, la previsione di bilancio è stata approvata.